Buonasera, qui Tom Tucker. Stasera la conclusione dell'inchiesta in tre parti sulla zoofilia all'acquario. Ma prima il caso del giorno. Un ragazzo è morto dopo aver giocato per 51 ore di seguito al videogame Halo. Ha terminato le sue vite e ora è uno spirito Halo. No, scherzavo, era gay. Sì, e sai che è impresa? È rimasto sveglio per 51 ore. E che ci vuole? Io ho fatto un volo andata e ritorno per l'Australia che è durato anche di più. Io non dormo mai. Da tre anni qualcosa nel nostro letto fa beep. Bonnie non lo cerca e io non riesco a trovarlo. Ehi, mi è venuta un'idea. Vogliamo scommettere 100 dollari che io riuscirò a restare sveglio più di voi due? Sì, facciamolo. Tu ci stai, Peter. Oh, cacchio, ci sto e come? Stabiliamo qualche regola di base. Non si chiudono gli occhi facendo finta di pensare. Peter, Peter! Stavo pensando. Salve, ragazzi. Ecco, ho fatto un po' di biscotti per il vostro pigiama party. Ehi! Questo non è un pigiama party, Lois! Ma te ne vuoi andare? Lascia qui i biscotti e fatene. Va bene, allora divertitevi, ragazzi. Senz'altro! Adesso va via, uffa! Mi sto già annoiando. Che facciamo ora? Uno scherzo telefonico a Cleveland? Ah, sì, sì, è una grande idea! Casa Brown. Cleveland? Ciao, sono Loretta. Cosa? Ma... ma tu sei morta? No, no, io ho fatto finta di morire per togliermi di torno l'agenzia delle entrate. Oh, mio Dio. Significa che devo restituire i soldi dell'assicurazione? Chi c'è lì con te, Loretta? Siamo noi, brutto idiota! Sei ancora morta! Accidenti a voi, ragazzi. Siete più perfidi dei Jerky Boys. È stato fantastico. Chi altro ha una moglie morta? Mort. Ah, questa la faccio io. È pronto? Shalom! Muriel? Ragazzi, perderete. Siamo arrivati a 62 ore. Joe, tu stai per crollare. E tu, Peter, è tutta la notte che hai allucidazioni. Come ti pare qui con i bagli? Io devo andare in bagno. Dov'è la sua letta? È proprio qui, Peter. Devo coprire la tavoletta. Scherzavo, non sono così schizzinoso. Lasciami, lasciami! Siamo fatti dello stesso impasto. Pizza, pizza! Peter, Peter! Joe, non stare l'impalato! Levamolo di dosso! Oh mio Dio, Joe, quando hai cominciato a correre? E a saltare? E a danzare nel cielo? Ma che danzare nel cielo? Sei addormentato. Vuol dire che siamo rimasti tu e io? Già, e la Sharon Stone in miniatura del film Casino. Brutto figlio di puttana! Andrò all'FBI e andrò anche alla polizia! Maier, aiutami! Io non la vedo. Sai, non ho ancora visto quel film. Peter, svegliati. Devo sapere se posso cancellare le registrazioni dei tuoi iCarly. Cosa? Ostra cacchio! Non mi sono addormentato per primo io, vero? Fermi, che cosa è successo? Aspetta, aspetta. Tu dormivi? Ho vinto io? Ho vinto io! Ragazzi, eravate tutti e due stanchi. Non è possibile provare chi si è addormentato per primo. Oh, sì che si può, Joe. Io ho telecamere in ogni stanza di questa casa. Nella tua cucina c'è una donna nuda coacciata sopra una torta. Aspetterà, lei sa che deve aspettare. Beh, a quanto pare ha vinto Peter. E sembra anche che io sia stato 48 ore senza ricevere email, sms e messaggi in segreteria. Sì, e vai! Ho vinto 200 dollari! E mi esce un po' di sangue da un orecchio. Una scommessa e una scommessa. Già, le mie congratulazioni, Peter. Cosa ci farai con quella vincita? Joe, non chiedermi mai di parlare di soldi. È volgare. Andremo a mangiare fuori. Grazie. Grazie. Grazie.